Allarme e bomba questa mattina presso il Tribunale di Vallo della Lucania. Intorno alle ore 10 è scattata l'allerta per via di una telefonata anonima e intimidatoria giunta al centralino del Palazzo di Giustizia. Subito dopo si è provveduto all'evacuazione di tutte le persone che al momento erano presenti in tribunale e a chiudere l'intera zona. Sul posto sono giunti tempestivamente i carabinieri della locale stazione diretti dal capitano Menato Malgiri. unitamente alle unità cinofili e artificieri di Sarno per i doverosi controlli al fine di escludere la presenza di ordigni all'interno dei locali del Tribunale.